Presente Onesti, presidente del CONI, gli consegnano le medaglie d'oro ai campioni del mondo per il bienio 52-53. Primo ad essere premiato Alberto Ascari, gli consegna la medaglia all'onorevole Ceccherini, presidente del gruppo sportivo parlamentare. Turno di Umberto Masetti, campione mondiale di motociclismo nel 52. Rodoni riceve la medaglia per il campione mondiale di velocità su pista per il 52 Enzo Sacchi. E questo, inutile dirlo, tutti sanno quale maglia coloro arcobaleno abbia conquistato. Fausto Coppi è il campionissimo che tutti ammirano e che all'estero ci invidiano. Altri premiati atti della bicicletta, i direttanti Ciancola, campione su strada nel 52 e Morettini, campione di velocità del 53. Edoardo Mangiarotti e gli altri campioni di spada a squadre. Irene Camber, olimpionica e campione mondiale di Fioretto. E anche collezionista di autografi. L'ultimo è questo di Masetti. È un gruppo che vale oro.